Inizia la pressione per il basket dall'età dell'adolescenza, all'età di 20 anni ho fatto un incidente dove purtroppo grave ho perso una gamba e da lì ho dovuto abbandonare questa idea di voler partecipare a gare più importanti. Ho trasferito a Firenze, ho trovato lavoro, ho trovato anche degli ottimi amici che praticano il basket in carrozzina e da qui mi sono avvicinato sempre di più allo sport di basket in carrozzina e abbiamo raggiunto anche ottimi risultati. Ho cominciato a giocare a basket all'età di 8 anni e fino a due anni fa ho fatto sia basket per norma dotati, avendo non solo la possibilità, e basket in carrozzina. Ora ho scelto di continuare solo un basket in carrozzina. Io ho scelto appunto questo sport per stare vicino a mio padre perché comunque è sempre una figura importante, soprattutto per un ragazzino, diciamo visto come l'eroe e non c'è cosa più bella che magari seguire le orme proprio del proprio eroe, del proprio padre. Ed è stata una grande vittoria per me ritrovare questo sport anche a seguito di questo incidente che ho avuto. Nello sport del basket ho ritrovato veramente l'esplosione delle emozioni, quindi mi ha servito, mi ha aiutato ad avere un approccio migliore anche nella vita quotidiana. L'esperienza del basket in carrozzina a mio babbo sta andando molto bene, abbiamo giocato anni insieme e adesso siamo in serie B e lottiamo addirittura per il passaggio in serie A. Nonostante io sia al mondo stato e ho la possibilità di giocare a basket, ho scelto di giocare a basket in carrozzina appunto per stare accanto a mio padre e sembrerlo più possibile. L'emozione più grande è quella di passarsi a vicenda il pallone o comunque incoraggiarsi a vicenda perché è sempre molto importante. Già da un compagno è una osa bellissima, poi se il compagno è il padre o il figlio si difende, è ancora più bello, è emozionante. Allora, 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 allora Allora, 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 allora Grazie a tutti.